ciao a tutti e benvenuti in questo secondo video della serie dedicata ai dislam vedremo alcune delle operazioni che quotidianamente oppure per attività di manutenzione straordinaria un tecnico deve svolgere su questa tipologia di apparati riguardando dei video del passato questa serie del 2017 mi viene un po da sorridere ma un pochino anche mi vergogno spero che questi contenuti possano comunque essere di vostro interesse anche se ormai passato qualche anno alcuni concetti potrebbero essere un po obsoleti ricordo che sono a disposizione per ogni tipo di chiarimento per ogni domanda anche se a dire il vero la mia specializzazione è la fibra ottica in quanto mezzo di trasmissione dei segnali le reti i cavi anche questo video è stato realizzato con la collaborazione di alcuni miei ex colleghi claudio alessandro davide e giampiero che hanno partecipato i primi due con la competenza tecnica davide come attore e giampiero realizzando alcune delle animazioni vi lascio al secondo video della mini serie dedicata agli apparati di dislam buona visione i dislam o books sono apparati in grado di supportare servizi dati fornia voip e video ognuno dei quali è in funzione delle schede con cui l'apparato viene equipaggiato possono essere utilizzati sia per clienti team che clienti wholesale olo schematicamente un dislam può essere rappresentato in quattro blocchi funzionali service interface module ethernet switching module service control module network interface module sono schede utente di tipologia adsl shdsl vdsl ethernet connesse al modulo ethernet switching si interfacciano lato utente mediante un apposito cablaggio ai blocchetti del permutatore o alle strisce al ripartitore in sala trasmissioni il modulo service control alla funzione di controllore principale del dislam verifica lo stato dell'apparato gli allarmi e consente la gestione e la configurazione dell'apparato la gestione è possibile tramite connessione diretta grazie a una porta di accesso locale seriale o ethernet oppure supervisionandolo da remoto tramite element manager di solito il modulo è composto da due schede equivalenti una delle quali in servizio e l'altra in riserva in caso di guasto lo scambio è automatico ma può venire anche tramite l'operatore il modulo ethernet switching consente tramite un bus interno di interconnettere i vari moduli funzionali del dislam e le relative schede inoltre permette la configurazione e aggregazione dei servizi broadband mediante vlan ad esempio il traffico dati di più clienti in retail viene associato ad una specifica vlan il traffico dei clienti holo ad una vlan differente service control e ethernet switching possono essere raggruppati in una unica unità il modulo network interface è composto da schede che permettono l'attestazione del dislam alla rete superiore di trasporto gigabit ethernet e ad eventuali mux in cascata le porte di queste schede sono solitamente equipaggiate con modulini sfp ottici ogni dislam viene alimentato in doppia via per garantire la ridondanza in caso di malfunzionamento ogni via avrà un interruttore magnetotermico di sezionamento non meno importante è l'unità di a reazione che garantisce la ventilazione per evitare il surriscaldamento delle piastre l'installatore deve realizzare l'impianto secondo quanto riportato nel progetto esecutivo e dalle norme tecniche emesse da team che definiscono le modalità di montaggio e connessione strutturalmente ogni dislam è un subtelaio ospitato all'interno di un telaio in tecnica n3 tutti gli apparati elettrici devono essere conformi alle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica e devono essere provvisti della marchiatura ce l'installatore deve rilasciare l'opportuna dichiarazione di conformità per la sicurezza del personale tutte le operazioni di installazione vanno effettuate in assenza di alimentazione il telaio e subtelai vanno collegati a terra con un cavetto del diametro previsto successivamente è possibile collegare le alimentazioni e relativi interruttori magnetotermici l'interfaccia verso la rete di trasporto avviene con due bretelle in fibra ottica da attestare alla scheda gbe della network interface rispettando i sensi di trasmissione e ricezione la posa delle bretelle dovrà seguire gli opportuni percorsi predisposti il cablaggio dell'apparato verso permutatore urbano viene realizzato con cavi di tipo te ogni cavo può essere attestato a più schede e porterà le differenti tipologie di servizio a uno o più blocchetti in caso di equipaggiamento di schede ethernet verrà effettuato un cablaggio in sala trasmissioni verso una o più strisce di terminazione a 12 connettori rg 45 ad ogni elemento installato deve corrispondere l'adeguata etichettatura la fase di collaudo prevede la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo all'installazione effettuata l'accensione dell'apparato e il controllo del funzionamento generale il tecnico esegue un primo accesso con il proprio pc al local terminal del dislam per le prime verifiche hardware la release del software e la prima configurazione per farlo si collega alla scheda del service control dopo aver controllato il funzionamento degli allarmi abilita l'interfaccia gbe per verificare il livello del segnale ottico e rendere l'apparato visibile in rete con l'assegnazione di un indirizzo ip il centro di supervisione può accedere al dislam per ulteriori controlli aggiornamenti e configurazioni tra cui la creazione delle vlan e dei profili adsl la configurazione deve essere salvata sia in locale che in remoto la correttezza dei cablaggi e il funzionamento dei servizi vengono testati attivando delle linee di prova al termine del collaudo il tecnico compilerà il modello mr3 gli interventi che possiamo eseguire su mux attivo sono di tre tipi manutenzione preventiva manutenzione correttiva e esercizio nel suo complesso una manutenzione preventiva prevede tutte quelle verifiche e misure che devono essere effettuate per accertare lo stato dell'impianto tra cui il controllo delle alimentazioni e della reazione la pulizia o la sostituzione del filtro di ventilazione l'assenza di allarmi e il corretto funzionamento di tutte le schede la manutenzione preventiva può essere ciclica ovvero eseguita con periodicità stabilita oppure straordinaria a seguito della ripetitività di anomalie regolarmente anche un server di supervisione esegue il backup della configurazione la richiesta di una manutenzione correttiva avviene in seguito all'insorgenza di un allarme riscontrato e non recuperabile dalla supervisione o a un reclamo cliente la cui causa è riconducibile al dislam in caso di guasto il tecnico esegue una prima diagnosi con un controllo visivo strumentale e con un applicativo remoto a seconda del tipo di guasto si interverrà sull'alimentazione le ventole o l'hardware generale si verificheranno le connessioni ottiche e i livelli di potenza del segnale in ingresso e in uscita e si procederà all'eventuale aggiornamento o sostituzione delle schede anche con l'apparato in funzione qualora il problema sia software si ripristineranno le corrette configurazioni potrebbe anche essere necessario un reset delle schede centralizzate del dislam di una singola scheda o di una porta oppure il cambio profilo di un utente alcune operazioni sono eseguibili dal tecnico in autonomia per altre sarà necessario l'intervento con assistenza da remoto per esercizio si intende l'attività di ampliamento hardware e l'aggiornamento software o il provisioning di nuovi clienti e servizi sulla base di un progetto di current planning il tecnico effetto all'ampliamento la configurazione e il collaudo di nuove schede di utente la normale attività di esercizio comprende anche l'attivazione di nuove utenze eseguite da remoto sulla base degli ordinativi